buona domenica dolcissime dolcissimi poi dite ma che sta facendo con le cartofole da uomo le calze da uomo ieri è stato il compleanno di mio zio ciccio e ieri sono andata sempre allo chan e le ho comprato queste pantofole e queste calze della puma 39 42 lui fa 40 di piede 40 41 però mi ha detto mia zia di prendere 41 e 42 e ho preso queste calze della puma 3 calze calzano dal numero 39 al numero 42 marca buona il puma e ha preso queste anche questi pantofoli extensi dell'auciano vi piace? basta che commentate sotto il video se vi piace regalo che ho preso mio zio ciao al prossimo video ciao